Professor Fazzi, a proposito di vaccini, si attende il Novavax, il vaccino che sembrerebbe il condizionale d'obbligo mettere d'accordo anche il Novavax. Ma quando potrà essere commercializzato, soprattutto a chi è rivolto e chi potrà farlo? Allora, è un vaccino che dovrebbe essere commercializzato a brevissimo ed è un vaccino molto convenzionale. Quindi quando tu dici che potrebbe mettere d'accordo anche il Novavax, io spero che siano disposti a vaccinarsi con questo tipo di vaccino convenzionale. Perché è una proteina, una proteina spike, però ottenuta tramite il DNA ricombinante. Questa proteina è adesa su una struttura che ha una grande stimolazione antigenica, che è un adiuvante, che si chiama protein M. Quindi è un tipo di vaccino simile a quello ad esempio per la vaccinazione antipatite B, per intenderci, che si fa ai bambini già dal terzo mese in poi, con i vari richiami e che praticamente ha, non dico eliminato, ma comunque sta facendo girare molto meno in occidente l'epatite B, che è terribile, sia per le manifestazioni acute e sia anche per la cronicizzazione, addirittura si può andare in cirrose e in cancro cirrose. Quindi si sono vaccinati o hanno fatto vaccinare i loro figli per l'epatite B e potrebbero vaccinarsi con il Novavax. Un vaccino che è quindi molto convenzionale, dovrebbe essere a breve commercializzato. Se ne è parlato molto, soprattutto nelle prime fasi, quando questo vaccino veniva in pratica studiato negli Stati Uniti, perché è una struttura, un'industria statunitense, piccola peraltro, non è una big pharma. Tra l'altro voglio dire, nel momento in cui otteneva dei grandi risultati, anche a livello di sperimentazione, le azioni di questa ditta, quotata in borsa, sono saltate in ardia, nel senso che hanno guadagnato non si sa che percentuali pazzesche di quotazione. Quindi diciamo che negli Stati Uniti ovviamente è stato utilizzato e sembra che una buona percentuale possa anche sterilizzare le prime vie respiratorie. Quindi rispetto a quell'mRNA dovremmo avere un minor numero di soggetti che si reinfettano. Può essere però in Europa e in Italia utilizzato dai soggetti al di sopra i 18 anni. Quindi ci sono delle buone prospettive. Tra l'altro è un vaccino che sembra dare una immunogenicità molto alta, quasi comparabile a quelli dei vaccini a RNA. Lei ha per corsi tempi come sempre perché di Novavax ne avevamo parlato diversi mesi fa. Ora però c'è quest'altro studio tutto italiano di un vaccino che a quanto pare può andare contro a ogni tipo di variante. E' un vaccino che si potrà fare una volta all'anno. Certo siamo ancora in una fase embrionale e si punta molto sulla cosiddetta proteina N. Innanzitutto le chiedo per noi comuni mortali cos'è la proteina N? La proteina N è una proteina del virus, che è una proteina che rispetto alla proteina spike che è all'esterno è diciamo meno esposta. E quindi che cosa succede? Succede che essendo meno esposta minori sono le mutazioni che si hanno sulla proteina N. Quindi diciamo il gene è piuttosto stabile. Mentre invece sappiamo che i geni che producono la proteina spike vanno incontro a delle mutazioni appunto perché tra vaccini e incontro con i linfociti, con i sistemi immuni dell'essere umano ovviamente essendo più esposta più facilmente può portare delle mutazioni come ormai tutti conosciamo. Ora l'intelligenza italica è stata applicata anche nel campo della vaccinazione. Cosa hanno pensato questi dell'Istituto Superi Sanità? Hanno pensato utilizziamo delle sferule, delle nanoparticelle tipo quelle che si utilizzano probabilmente per il vaccino mRNA come il cavallo di Troia, all'interno però non ci mettiamo un mRNA ma ci mettiamo già una proteina, la proteina N. E stanno facendo delle sperimentazioni sugli animali, sembra che i risultati siano veramente ottimi. Cosa succederà? Succederà che quando il nostro organismo entrerà a contatto con questa proteina N svilupperà degli anticorpi contro la proteina N ma essendo la proteina N diciamo più stabile probabilmente riuscirà ad aggredire qualsivoglia virus, qualsivoglia variante, speriamo che sia proprio così. E quindi questa sarà la situazione ottimale per chi si dovrà vaccinare in quanto ci si vaccinerà una volta all'anno come succede per influenza virus. Perché una volta all'anno e non una volta nella vita? Perché abbiamo detto più di una volta anche ai microfoni di questo emittente che i coronavirus quando incontrano l'ospito umano non fanno generare un'immunità permanente, un'immunità transitoria che dà una protezione mediana che va da 9 a 12 mesi. Ovviamente ci sono soggetti magari più giovani o con una costituzione particolare che riescono ad avere una protezione più lunga e soggetti immunodepressi o anziani che hanno una protezione più breve anche di 4-5 mesi forse anche meno. Mentre invece, io faccio sempre il raffronto con il morbillo, il morbillo quando incontra l'ospito umano dà una immunità permanente. Così come quando noi facciamo il vaccino antimorbillo che è un virus vivo attenuato noi abbiamo un'immunità molto duratura e talora magari facciamo una dose booster però certe volte è sufficiente anche una sola inoculo di questo tipo di vaccino che appunto nell'essere umano produce anticorpi a vita. E quindi, tornando al discorso dei coronavirus, è ovvio che noi dovremmo vaccinarci una volta all'anno. Ci si vaccinerà una volta all'anno, magari prima dei mesi freddi, come facciamo per influenza virus ma solamente se questo coronavirus negli anni manifesterà ancora una certa patogenicità. Se fra qualche mese o qualche anno, speriamo, dovesse diventare a patogeno ovviamente noi non ci vaccineremo perché ci darà solamente poco fastidio, ci ci darà il raffreddore comune. Grazie. Grazie. Grazie.